Con l'ordinanza firmata dal ministro Speranza con il passaggio della campagna in zona arancione cambiano alcune cose rispetto alla zona rossa. Il passaggio in zona arancione determinerà qualche allentamento in più. Nella zona arancione è possibile spostarsi solamente nel proprio comune dalle 5 alle 22 senza dover motivare lo spostamento. Vengono vietati i movimenti verso altri comuni e altre regioni tranne nei casi di esigenze lavorative, di salute o di necessità. Sarà possibile uscire dal proprio comune se non ci sono alcuni servizi essenziali come ad esempio se nel proprio comune non ci sono le poste è possibile spostarsi in un altro territorio. Lo si può fare anche per andare a fare la spesa in un altro comune nel caso in cui lo spostamento sia legato a motivazioni economiche, supermercati più convenienti per esempio. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti tranne le solite eccezioni lavorative o date da necessità e salute. È consentito il rientro al proprio domicilio. Per gli spostamenti durante la giornata, se ci si muove nel proprio comune, non è obbligatorio essere giustificati ma per uscire dal comune e dalle 22 alle 5 è necessario motivare gli spostamenti attraverso l'autocertificazione. Nell'area arancione sono chiusi bar, ristoranti, pasticcerie, gelaterie. È consentito solo l'asporto fino alle 22. Non si può consumare in caso di asporto nelle vicinanze dei locali. La consegna a domicilio rimane consentita a qualsiasi orario. Restano aperti solamente i servizi di ristorazione nelle aree di servizio delle autostrade, in aeroporto e in ospedale. Nelle regioni inserite nella zona arancione, i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. Restano aperte invece le farmacie, parafarmacie, supermercati, tabacchi ed edicole al loro interno. Per i trasporti valgono le stesse regole in tutte le aree. La capienza viene ridotta al 50% per il trasporto pubblico locale. Sarà possibile inoltre fare una passeggiata dalle 5 alle 22. Stessi orari anche per l'attività motoria, che si può svolgere anche nei parchi, ma evitando assembramenti. Tutti gli spostamenti consentiti potranno essere svolti anche con l'utilizzo della bicicletta. Inoltre è possibile andare in bici per attività motoria dalle ore 5 alle 22.